Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi come avrete letto dal titolo siamo qui con un nuovo blog e oggi vi parlerò di un altro prodotto della River System dei prodotti che mi hanno inviato qualche settimana fa e le clip saranno divise diciamo in due giorni diversi infatti vedrete alcune clip con una luce inferiore essendo che le sto registrando di sera dopo aver finito di raccogliere le olive e una parte invece sono dei giorni precedenti in alcune ore di luce maggiore che ho registrato queste clip sul nuovo prodotto proprio per farvelo vedere meglio con la luce migliore quindi adesso iniziamo ad accudire gli animali e vi mostro il tutto quindi ragazzi iniziamo nel mettere la zucca alle guaglie ora mettiamo anche questa zucca ai pulcinotti grazie 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 i piedini quindi si può poggiare a terra o con un gancio qui sopra per rialzarla da terra per più centimetri. Questa mangiatoia verrà utilizzata nel box delle Marans. Prima nel box delle Marans ho utilizzato una mangiatoia a pedale della River System che poi per quantità di cibo e animali ho avuto bisogno in un altro box dove ci sono più animali e quindi l'ho inserita lì e l'avete già vista nei Gertri Vlog. Quindi per qualche giorno ho aspettato poi la River mi ha inviato questa mangiatoia e quindi l'andremo oggi a montare e vi farò vedere come la utilizzeremo. Quindi vi lascio al breve timelapse in cui la monterò. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Quindi ragazzi come potete notare ho messo in questo modo la mangiatoia rialzata a più 1, in modo tale che essendo animali con una testa abbastanza grande riescono a mangiare senza neanche far fuoriuscire il cibo. Qui c'è per aprire, dotare che possiamo mettere il cibo e qui ho messo questa catena che è a un certo punto poi unita con una fune che arriva fino al tetto ed è rialzato. Essendo che come vi dicevo anche negli scorsi video per animali di una stazza un pochino più grande preferisco mettere rialzato le mangiatoie in modo tale che non riescono per evitare lo spreco di granaglie oltre anche alla funzione che è già la mangiatoia per non far fuoriuscire, non fare una selezione di granaglie ma far mangiare agli animali tutte le tipologie di granaglie per avere un'alimentazione completa. Grazie a tutti. quindi ragazzi intanto che le marans si ambientano alla nuova mangiatoia adesso vi mostro come è formato adesso il kit della river system per alimentare questo box quindi adesso vi mostro il tutto allora qui c'è sempre un abbeveratoio a nipple con diverse postazioni un abbeveratoio che ha una minima quantità d'acqua che può contenere con un galleggiante che da fuori si può vedere sempre a che livello si trova l'acqua poi io l'ho collegato attraverso questa parte l'ho collegato al serbatoio più grande dove contengo più acqua con un altro galleggiante e quindi adesso qui ci sarà anche questa mangiatoia della river system Arcus la mangiatoia Arcus da 22 litri e adesso andremo a vedere quando gli animali inizieranno a mangiare qui quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se è così potete farmelo sapere lasciando un commento qui sotto scrivendomi come vi è sembrato questo video se volete vedere altre cose dell'allevamento durante questi vlog e potete anche farmelo sapere lasciando un like qui sotto potete iscrivervi e attivare la campanellina per vedere tutti i miei prossimi video potete anche seguirmi sul mio profilo instagram piaccio le galline ornamentali dove lì posto diciamo foto più nel dettaglio degli esemplari e ringrazio ancora la river system vi lascio qui sotto tutti i link sia del prodotto sia delle info per contattare la river system e quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti da me e dalle galline ornamentali da tutto l'allevamento ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti